Ragazzuoli benvenuti su questo nuovissimo video. Oggi ragazzi vi presento un video spettacolare. L'avete visto sicuramente dal titolo, l'avete visto sicuramente dalla miniatura. Ragazzi, le mie prime 20 bombe nella nuova stagione 10 di Fortnite. Ragazzi, un video molto 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 bello, è stata una partita molto bella, molto divertente, ho droppato 20 bombe proprio alla velocità della luce. E niente ragazzi, fondamentalmente quello che volevo dirvi è che secondo me la stagione 10, dato che me l'avete chiesto in molti, Secondo me è molto bella, è bello il fatto che loro vogliono appunto modificare le città man mano con la season che passa. Però sono del parere che l'unico errore, l'unico errore che hanno commesso con questa stagione è stata l'aggiunta dei robot. Secondo me i robot ragazzi hanno un potenziale incredibile, sono secondo me più forti sia della spada che la misero tempo fa, sia anche di Thanos. Quindi ragazzi sì, spero semplicemente che prima o poi rimuovano i robot perché secondo me vanno eliminati assolutamente. Intanto ragazzi ci tengo a ricordarvi di utilizzare il mio codice creatore Coratomist nello shop di Fortnite e se acquistate qualsiasi tipo di oggetto vi ricordo che potete tranquillamente fare una stories o una foto, taggarmi su Instagram in modo tale che io ricondividerò ogni singola vostra stories. E poi ragazzi niente, per il resto vi ricordo di lasciare un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto ragazzi perché dai, 20 bombe, bisogna lasciare un bel mi piace ragazzi, dai forza. Quindi lascialo adesso e niente, quindi adesso ora vai, goditi questo fantastico video, prenditi una bellissima, non lo so, una bellissima aranciata, una bellissima sprite e goditi questo video perché è davvero spaziale. Questo era quello della lobby, questo era quello che mi seguirebbe nella lobby, figlio di put... No, non lo so, una bellissima, è davvero spaziale. Grazie a tutti. 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 Easy.